Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, è iniziato il festival dei rumor su tutti i top di gamma che vedremo nel corso del Mobile World Congress 2018 di Barcellona E allora beh, siamo pronti per parlare di LG G7 con tanta polemica già da ora, di Huawei P11 o P20 ma anche di OnePlus 6 perché già se ne inizia a parlare Quindi non perdiamo tempo e iniziamo subito dopo la nostra sigla Allora ragazzi, la prima notizia è in realtà un'ufficialità ed è la prima di un evento stampa che si terrà al Mobile World Congress 2018 di Barcellona Ovviamente la prima è sempre Huawei a muoversi e infatti ha annunciato che il 25 febbraio si terrà il suo keynote per presentare Ma indovinate un po' cosa? Secondo me il nuovo top di gamma nelle sue due versioni standard e plus o pro vedremo quante saranno quelle alternative Però insomma Huawei P11, Huawei P20 come vogliamo chiamarlo sarà presentato con ogni probabilità il 25 febbraio a Barcellona Un giorno prima rispetto all'inizio ufficiale della fiera proprio da copione L'evento inizierà alle ore 14, noi ci saremo presso il Centre de... ah no questo non è francese, questo è spagnolo però vabbè il catalano è simile al francese Centre de Convention International de Barcelona, l'evento si terrà lì se ci volete raggiungere ci trovate lì Una location insomma che abbiamo visto qualche foto sembra anche piuttosto cool, Huawei da questo punto di vista non delude mai E quindi ci saremo, scopriremo questo smartphone, ve ne parleremo subito, poi inizieremo a provarlo e arriverà la nostra recensione in tempi brevissimi Appuntamento quindi con Huawei al 25 febbraio Barcellona alle ore 14 E ovviamente se non potrete essere lì con noi per qualche motivo l'evento lo potrete seguire in streaming direttamente da casa L'altra ufficialità o quasi era quella di Samsung, ve ne ho già parlato nel video di martedì Quindi non tornerò sull'argomento ma anche Samsung lo stesso giorno dovrebbe tenere un'altra presentazione, una sua presentazione In cui probabilmente vedremo il nuovo top di gamma anche per loro S9 ed S9 Plus che tornerebbero a far parte del Mobile World Congress Ma ve ne ho parlato in modo molto più specifico e anche con delle novità su S9 quindi vi invito ad andare a guardare quel video Nel video di martedì però ho dimenticato di parlarvi di un altro smartphone di Samsung, il Galaxy X che non si chiamerà così, lo sappiamo Ma è lo smartphone pieghevole su cui Samsung sta lavorando veramente da tantissimi anni Beh, nell'occasione in cui la persona, l'esponente di Samsung ha dichiarato quello di cui vi ho parlato nel video di martedì E' stato anche confermato che questo smartphone pieghevole non vedrà la luce nel 2018 ma se ne riparla per il 2019 E per il momento quindi c'è comunque una Samsung che ci sta lavorando, vuole perfezionare il software, vuole perfezionare anche l'hardware del dispositivo Può farlo funzionare bene per portarlo poi alle masse ma probabilmente si sono accorti che non ce la faranno in quest'anno E quindi se ne riparla appunto il prossimo Ma abbiamo atteso tanti anni, dai cosa cambierà a tenderne un altro Però parlavamo di Huawei Beh, di Huawei P11, addirittura ora si parla anche di un P12 Sono apparse le pagine test sul sito ufficiale Infatti, come possiamo vedere tramite queste immagini Si fa riferimento a due nuovi smartphone proprio chiamati P12 e P11 E qui io non capisco più nulla perché si è parlato quest'anno di P11, di P12, di P20 Nomenclatura un po' così, almeno per ora a livello di rumor non chiara Il Huawei di nuova generazione, il top di gamma di nuova generazione Come sappiamo dovrebbe avere uno schermo borderless 18 noni Con la notch in stile iPhone X, ve ne ho parlato già tante volte Ma ci potrebbe anche essere una soluzione di Huawei per quanto riguarda lo sblocco del dispositivo Tramite riconoscimento facciale, ecco spiegata la notch lì in alto Si parla poi di questa tripla fotocamera realizzata in collaborazione con Leica Della nuova EMIUI 8 basata su Oreo E insomma il telefono come dicevamo prima potrebbe essere annunciato il 25 febbraio al Mobile World Congress di Barcellona Dopo aver parlato di Huawei e accennato qualcosa su Samsung Chi è la terza di cui si parla sempre? LG Beh su LG c'è stata prima una notizia per quanto riguarda il G7 estremamente polemica Che aveva gettato nel panico tantissime persone Si pensava che G7 potesse avere ancora una volta il processore dell'anno prima Esattamente come G6 Infatti se S9 e i nuovi smartphone Huawei arriveranno col processore di nuova generazione Si ipotizzava che LG avrebbe potuto includere lo Snapdragon 835 nel G7 Quindi lo stesso processore che abbiamo trovato ad esempio sull'S8 in versione americana Su OnePlus 5 e OnePlus 5T Insomma un passo indietro Ancora una volta LG con questo G7 poteva essere un passo indietro rispetto alla concorrenza Ma per fortuna la notizia è stata smentita Non è stato confermato che ci sarà il nuovo processore Ma è stata smentita la presenza dell'835 È comunque qualcosa Mentre per quanto riguarda G7 c'è stata anche la pubblicazione Da parte di una fonte sempre affidabile come Slash Leaks Di un primo rendering del dispositivo E sinceramente se sarà così Lo sto guardando in questo momento come vuoi Non lo so mi dispiacerebbe un po' Perché LG sceglierebbe un'estetica che è un po' la snatura Sarebbe un'estetica un po' simile a quella di uno smartphone Huawei È troppo simile È troppo vicina anche a uno smartphone Samsung Al V30 Insomma il G6 per quanto non sia stato un telefono stupendo Anche se era un ottimo telefono Era particolare Lo riconoscevi Questo qui Sembra un telefono borderless Come tanti Comunque è stata pubblicata questa immagine Questo render Che sembra piuttosto autorevole Anche proprio in base alla fonte Che l'ha condiviso Dal rendering Sembra chiaro che il telefono avrà la porta jack da 3,5 mm Per le cuffie Quindi non mancherà Ma ovviamente sarà affiancata anche da un bluetooth in versione 5.0 Con ogni probabilità che sarà molto interessante E questo secondo rumor Anche se non ci sono grosse conferme Parla dell'845 a bordo Però come vi dicevo È un rumor Non è la smentita dell'835 E la conferma che ci sarà l'845 È molto probabile Chiariamoci Però non c'è ancora ovviamente alcuna ufficialità Si parla anche di standard IP68 E di una RAM Che addirittura potrebbe essere più interessante Rispetto a quella che troveremo su Galaxy S9 Perché lì avremo 4 giga di RAM Su G7 potremmo averne 6 Il telefono anche in questo caso Dovrebbe essere presentato a fine febbraio Inizio marzo comunque a Barcellona Durante il Mobile World Congress E andrà in vendita subito dopo Nel tentativo di non perdere terreno Un po' come l'anno scorso LG ha fatto in entrambi i casi Sia con G6 che con V30 Con una commercializzazione un po' sbagliata Un po' così all'avventura Speriamo che quest'anno Riescano non solo a presentare un telefono interessante Ma anche a venderlo subito Perché quello fa la differenza Si parla anche però di OnePlus 6 Che in realtà non si sa tantissimo al momento Ma si dice soltanto che Dopo il ciclo di refresh semestrale Di 5 e di 5T A 6 mesi da oggi In pratica anche meno Arriverà OnePlus 6 Arriverà a giugno Quindi il 6 è ricorrente Dopo 6 mesi dal 5T Nel sesto mese Arriverà OnePlus 6 E qua vabbè Potete sbilanciarvi con i complottismi E con Tuttavia questa catena di refresh semestrale Potrebbe aver scottato OnePlus quest'anno Io sono uno dei primi che Ha fatto notare come non sia stata una politica bellissima E infatti OnePlus l'anno prossimo Potrebbe fermarsi al OnePlus 6 Cioè non seguire poi con un 6T Presentare il suo modello di punta A giugno con tutto ciò che deve avere E in particolare in questo caso Sembra confermato lo Snapdragon 845 Con altre migliorie Ma quello sarà il telefono per il 2018 Non ne seguiranno altri E personalmente accoglierei questa scelta Con un grosso applauso Quindi spero veramente Che OnePlus scelga di modificare La sua politica di vendita Che quest'anno non è stata forse Correttissima nei confronti degli utenti Si parla tra l'altro della possibilità Per la prima volta di vedere un OnePlus 6 In vendita negli Stati Uniti Tramite gli operatori telefonici Non sarebbe mai successo in precedenza Quindi potrebbe essere una novità Molto interessante per chi vive negli Stati Uniti E infine per la rubrica Cine Sony cloni di iPhone X Anche questa settimana c'è qualcosa di interessante Da mostrarvi Questo qui è il Blackview One Blackview è una marca di cui abbiamo anche provato Qualcosina di recente E che ha realizzato forse uno dei migliori cloni Di iPhone X Perché ha la stessa fotocamera doppia verticale sul retro Ha un retro in vetro E sul fronte A parte una cornice un po' spessota Nella parte inferiore Sopra ricorda tantissimo l'iPhone X Nonostante il notch sia molto più spesso Il telefono in generale Sembra un po' più spesso Ma c'è una notizia molto interessante Ormai tutti vogliono avere Sto cavolo di Face ID E allora siccome il Face ID Come dice qualcuno Non è nulla di nuovissimo Ed è vero perché lo sblocco del volto Con il volto Esiste da tantissimo Lo sblocco del Face ID Però non è proprio Quello stesso sblocco del volto In ogni caso Implementare su Android Lo sblocco col volto È semplicissimo Ce l'hanno smartphone da 2014 O anche precedenti Quindi Questo clone di iPhone X Questo Blackview One Non si fa mancare anche lo sblocco Con il Face Con il Face Unlocking Insomma E poi il telefono Vabbè abbiamo già parlato della doppia fotocamera Ma l'altra notizia interessante Che avrà Android 8.1 Oreo Quindi L'ultimissima versione di Android Che su un Cinesone Non è assolutamente scontata Il problema Beh Non conosciamo praticamente nulla Della scheda tecnica al momento Se non il fatto che avrà l'USB-C Ma il telefono potrebbe avere un prezzo un po' elevato Si parla infatti di 400 euro E potrebbe così andare a competere In questa gamma Dei Cinesoni Top Direttamente con Quello smartphone Doggy V Di cui vi ho parlato La scorsa settimana Due cloni di iPhone X Che si faranno la guerra da soli In Cina soprattutto Al modico prezzo di 400 euro Che bel mondo Bene ragazzi Quindi questo video Finisce qui Io vi invito a lasciare un like Se vi è piaciuto Vi invito anche a seguirci Sui nostri account social Trovate tutto qui sotto In descrizione Se invece volete seguire anche me Potete seguirmi su Instagram Il mio username è Andrea Cervone Nome e cognome Tutto attaccato Mi trovate subito E noi ci risentiamo Al prossimo video Ciao a tutti Alla prossima